Lì faccio in modo che arrivi alla fine della serie stanco, stanco su 12 ripetizioni se l'obiettivo mio è quello di dare un condizionamento strutturale, stanco al limite su 4-5 ripetizioni se il lavoro è neuromuscolare, ok? Però parlo di due esercizi, attrezzi ragazzi, una barra con due piastre e una panca o dei gradoni, oppure se voglio fare il pull pistol giù, meno uso le braccia meglio è ragazzi, però un TRX attaccato alla traversa, alla spalliera dove volete, o due o tre TRX, è creato un'attiazione di lavoro dove ci sono tre giocatori che possono lavorare. Quindi con un paio di bilancieri e una panca, un gradone!